E' stato per più di un decennio il passatempo preferito nelle calde serate d'estate per i più piccoli affascinati da quei cini galleggianti o dalle macchinine elettriche che giravano vorticosamente nella piccola pista. Turisti e fanesi se lo ricordano bene. E' la struttura accanto allo splash, il baretto estivo su lungomare della Sassonia, gestito per tanto tempo proprio dai titolari del bar con grande perizia. Ora da due stagioni la vediamo così, un po' vuota e ahimè inanimata. Molti ci scrivono chiedendoci come mai questa struttura comunale non riapre i battenti, essendo così centrale in una zona ad alto tasso turistico e per i locali, dopo la chiusura delle scuole, anche il rifugio di molte mamme lavoratrici con i centri estivi proprio indirizzati ai più piccoli. Dopo la gestione dello splash e nuovi bandi, qualche passaggio di mano, alcune rinunce e lungaggini burocratiche hanno impedito alla sua riapertura la scorsa stagione nel 2016, anche perché incominciare l'attività a metà stagione non è stato possibile, i tempi sono troppo ristretti. Quest'anno Paolo e suo marito erano pronti per riaprire, ma purtroppo la mannaia della burocrazia e le infinite carte, autorizzazioni, pratiche varie che servono hanno stoppato nuovamente l'iter. Però è solo questione di tempo, serve mettere a posto un paio di scartoffie e dalla prossima stagione questa struttura ritornerà a rianimarsi e le urla di gioia dei bambini riecheggeranno nuovamente. E anche con qualche novità, ci dicono i gestori, ma per questa dovete aspettare un po', ve la racconteremo più avanti.